Ed è quindi la finale, Nanzo contro Deppi Ed è quindi la finale, Nanzo contro la stile, 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 Nanzo contro la stile Iscriviti al canale Io voglio che vi facciate sentire per quello di Vadovo che vi è piaciuto di più. Era partito Nazzo, e quindi per Nazzo, se vi è piaciuto Nazzo, se vi ha convinto Nazzo, se pensate che sia opportuno mandare Nazzo a Madrid per le rive che ha spuntato stasera, al mio strafondutissimo tre, fatemi sentire, uno, due, tre! Prado il culo delle spagnole, quello che cazzo gli pare a lui, fatemi sentire, al mio fatidico e ultimo tre, uno, due, tre! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Se volete mandare Nazzo Debit a Madrid, allora, questa volta è partito per primo Debit, quindi vi dovete fare sentire al mio fatidico e ultimo, veramente questa volta, Trepp e Debit, se Debit vi ha convinto e se volete mandarlo a Madrid, uno, due, tre! Se invece ho questa seconda chance che ci hanno avuto, vi ha convinto, vi ha spaccato, vi ha fomentato di più, pensate che sia moralmente giusto per le rive che ha spuntato, mandarlo a Madrid per Nazzo, dovete farvi sentire, al mio tre! Uno, due, tre! Uno, due, tre! La giuria concorda con il pubblico? E allora è Nazzo, vincere a Madrid! La giuria concorda con il pubblico? E allora! E allora! E allora!